faccio in anno è un po' con zero, certo i droni... ci metto troppo uccidili mi conto tanto se nemmeno ci sono mai arrivate i droni che cazzo d'ascensore è questo? piccate lentissimo donna, come quelle di lcdz ci manco ricontro le ammo, intanto non... vedo da quando si cominciò, sto già quando non ho mai fatto così, oh, non nemmeno con gli esplosivi io si, non sparandogli non so cosa usare, e mi ricordo quando ci sono noi Matteo ci favo addirittura uno shot in acqua corrosivo pensate come ero messo bene cioè gli stavo prendendo a missilate i droni perchè mi sembra, allora effettivamente anche io se c'è li potrei provare con l'arma corrosiva però contro Kramrax sa che le mentali fanno schifo e gli fu 200, non mi scende nemmeno la vita, non ti scende queste cose io li faccio le 90 vai sono morto perchè mi ha vomitato addosso e ora le bombe in tirano beh madonna voi di infatti tt ben beh riesco a calcolarti è una battaglia di nullare i nemici lontani allora con il lanciamistri centriale vi faccio zero zero cosa? no ma penso le armi esplosive le facciano veramente nulla no ma incendiario ok veramente si tira delle bombe impressionanti cioè li faccio anche danno ma no sto lagando li stavo per restare ma hanno ucciso non so come fare niente bisogna che riesca di rimanere in vita finchè non arrivate qua su? si si nascondesi nascondesi beh i respawno almeno intanto risetto il fight se riesco ad arrivare poi a metà vita si ma non ho capito come faccio a ammazzarmi per ammazzarmi l'istante così perchè ho un shot ignorantemente senza concentrare e io mi ricordo che a noi ci vuoi aspettarsi così no infatti era duvo ti ricordo assolutamente tini duvo Daniele tini duvo l'ascensore non finisce più l'ascensore non finisce più questo ascensore non finisce più ah c'è c'è un dro i droni se mi chiappano mi mandano a 20 di vita fissa 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 ci metto 85 anni solo per salire e poi a ai minuti normali veramente mi faccio niente si quello tutti e tutti a quanto abbiamo appurato no mi sta guardando male figlioli si faccio più dalla camera l'ascensore non punisce più non è una battuta oddio ci siamo ci siamo ci siamo stiamo clipando nella mappa siamo nella mappa letteralmente 17 di vita e sono morto no non voglio morire c'è io sparo a caso bello eiii è perso una vai di sparo al punto dietro no mi vanno salta doggia avorda stessi 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 di attacco area che è un disastro basta che non lo rifaccio ora perchè stessi stessi mi mette la terra e sta andando verso l'essio ecco i droni hanno ucciso me stessi I am on the ground even harder than before oh 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 le do a poca vita si va bene mettemelo se ce la fa un grid a poi no è impossibile io ce la lascio davanti a me che non muore nei mezzi che sbaglio yes no adesso difensivo Se non l'ammazzi sarebbe meglio Perché? Perché siamo due morti Ah, ok Ma non riesci a me a restare almeno Ah, facciamo scendere l'ascensore Se non riesci a restare, corri Allora aspetta, ma io subito Sì, perché l'ascensore sta scendendo Se non si fa uccidere, gioco a difensivo Finché non teniamo solo Cioè, per la serie sono sopravvissuto io Mentre mi aspettavo No, ma correndo a diritto è easy Però, se vuoi sparare un po' il minimo Vai, freme, 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 freme Dove? Stiamo salendo Siamo salendo Sette anni dopo Vai, grazie, esco fuori No, infatti vengo a bloccare dalla Impatta nella barriera Siete? Può correre lontano nel luce, aspetta Quanto è che se non li vado dietro Non li faccio niente Sì, gli eri rimasto un quel cazzo di funto Gli stavo provando a sparare, ma Purtroppo anche di foppo Vai Siamo nell'arena C'è ancora una chela ancora C'è due chela T'è ancora Fà l'attacco quello No, Alessio Non tante Spero lo faccio verso di me Sto faccio verso di me di sicuro Si sta muovendo troppo Si sta muovendo Mi è andato Vai sotto sotto z Otto secoli sotto Eccolo Fate la meta, l'ho detto Ma che è la destra No, ma è possibile Io la vedo, ma che è la destra Ti sto facendo danno Anch'io, anch'io, incredibile Vai Anch'io, 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 è fatto Invincibilo E' now loot Andiamo Anch'io, 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 anch'io Ma è un'altra roba blu Non c'è niente di celeste Maggendario Desert Travel Infiniti leggendari Ma che sono di livello 0 E' 61 Ma quanti leggendari No, ma che palle il magico Di nuovo Ok Bellissimo Mi è rotta Mi è rotta Mi p pipe Mi Mi Hai Son Mi